Ciao a tutti, ed è finalmente uscito il video riguardante l'udienza di Chiara e Davide contro Giuseppe e la compagna. Allora, questo video si apre con Davide che sbadiglia, proprio, si è appena alzato, dice che ha dormito pochissimo perché aveva paura di fare tardi, insomma, e quindi si è svegliato anche alle sei, che ha lasciato Chiara dormire, riposare ancora un po' perché in effetti l'udienza era alle 9.30 e quindi c'era tempo. Nel frattempo ha cercato su Google Maps dove era situato il tribunale e quindi ha già, diciamo, un'idea di dov'è, non è tanto lontano e questo lo rallegra, insomma. E si va a fare il caffè e prepararsi per poi svegliare la moglie, deve passare anche dal tabaccaio per pagare l'area C. Ci ricorda che hanno passato, insomma, una brutta nottata perché anche la moglie aveva l'ansia, quindi si è addormentata tardi, ha passato un po' la nottata giocando, insomma, il video alla PlayStation. E lui anche, insomma, non era proprio in ansia, però un po' di tensione a quanto pare c'era. Si siede sul divano per prendersi il caffè, dice che fa freddo, insomma, questo tocco meteorologico non manca mai. E niente, e poi cambia, diciamo, l'inquadratura e li vediamo, vediamo Chiara che è al tribunale, che sta spattando Davide che passa, insomma, dai controlli. Anche se aveva detto che non si sarebbe truccata, invece è truccata, anche se, insomma, non in maniera eccessiva. Ha i capelli sciolti sulle spalle e raccolti praticamente sulla testa, praticamente alla fronte scoperta, ecco. E niente, poi l'inquadratura passa a casa e a casa ritroviamo lui che già si è messo in pigiama perché dice appunto che, essendo che hanno dormito poco, andranno sicuramente a farsi un riposino. E come è andata l'udienza? È andata che Giuseppe e la ragazza non si sono presentati, ma a quanto pare, ce lo dirà Chiara poi, non si è presentato neanche l'avvocato. Comunque, cambia ancora l'inquadratura, vediamo che Chiara è in macchina, c'è anche la signora Luciana perché è dovuta andare a ritirare un regalo e a prendere dei libri, insomma, e lei ci spiega appunto che la cosa strana appunto è non tanto che non si sono presentati Giuseppe e la compagna, cosa della quale lei e Davide si sono assai rallegrati perché non volevano incontrare quei due individui, ma il fatto che appunto non è andato neanche l'avvocato e a quel punto il giudice ha dovuto nominare un altro avvocato d'ufficio per la difesa di Giuseppe e della compagna appunto. Chiara dice che il giudice è molto bravo, che il pubblico ministero è bravissimo, cioè sono stati là quanto un'oretta e comunque lei ha potuto vincere questa cosa, e hanno detto, ha detto che praticamente il giudice voleva ridare l'udienza dopo sei mesi, lei ha detto di no perché erano tempi abbastanza lunghi e che voleva insomma che tutto finisse il prima possibile e allora pare che le abbia dato l'udienza per febbraio, quindi a tempi abbastanza brevi. Gli hanno chiesto, hanno chiesto sia a lei che a Davide se voleva un qualche risarcimento in denaro, lei ha detto di no, che l'unica cosa che interessa loro è l'incolumità e che quindi insomma che queste persone non abbiano a farle, a far del male anche a Davide insomma. E niente, poi ha dato una stoccata a tutti quelli che hanno parlato della sua udienza anche scommettendo sulla stessa, dice che queste cose non si fanno, che sono cose serie e insomma che comunque lei lascia parlare le persone. Grazie Chiara di questa tua magnanimità che insomma ci lasci parlare, insomma la cosa è gradita. Comunque dobbiamo aspettare quindi fino a febbraio per sapere che cosa accadrà. Certo che si è parlato della bravura, cioè si è sperato nella bravura dell'avvocato difensore di Giuseppe perché insomma quanto pare anche Giuseppe e la compagna sono stati molestati in qualche modo da Davide e Chiara quindi si è sperato insomma che quantomeno potesse far valere le sue ragioni, le ragioni di un comportamento diciamo un po' oltremisura. Ecco, a quanto pare questo avvocato non è né bravo, è tantomeno un professionista serio perché insomma non presentandosi comunque ha fatto sì che gli si togliesse questo caso, diciamo in questo modo. Io sinceramente non ne capisco tanto per quanto riguarda la legge, gli avvocati e come si discute un caso in tribunale ma penso che comunque questo avvocato che si era assunto il compito di difendere un assistito, in questo caso Giuseppe e la compagna avesse in un certo qual modo dovuto studiare il caso, nel senso ha dovuto parlare con Giuseppe di tutto ciò che era accaduto, di come era accaduto, di quando era accaduto insomma e quant'altro. Il fatto che adesso si sia praticamente dato il caso ad un altro avvocato, io penso che quest'altro avvocato sperando che non sia della stessa parrocchia del precedente dovrà ristudiarsi tutto quanto da capo e speriamo che riesca nei tempi, che insomma manca un mese voglio dire, a fare questa cosa e a poter garantire al suo assistito una difesa non dico eccellente ma quantomeno sufficiente. E adesso passiamo al vlog di Chiara per quanto riguarda i suoi festeggiamenti, i festeggiamenti dell'anniversario perché mentre io vi parlavo del vlog dell'udienza è uscito il vlog di Chiara dei festeggiamenti. La troviamo in macchina, ribadisce quello che insomma è stato detto nel senso che non si sono presentati, che lei è stata contenta così, che non si è presentato neanche l'avvocato, che il magistrato ha detto e dopo sei mesi, paravà, 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 quello che è stato detto in precedenza e poi ci dice che non ha voglia di mangiare fuori per quanto riguarda i festeggiamenti perché insomma tra l'ansia, la paura del covid e quant'altro insomma questa voglia di mangiare fuori non c'è. Dice che non si è truccata, si è solo messa il mascara, giusto perché aveva dormito poco, insomma voleva apparire se non al meglio insomma quantomeno un po' più sveglia. Poi ci troviamo l'inquadratura in una pasticceria perché giustamente loro vogliono comprare qualche cosina insomma di dolce per festeggiare e lì ci fa vedere tutto ciò che c'è in esposizione. Cambia di nuovo l'inquadratura, la ritroviamo in camera impigiamata e in cipollata, dice che hanno dormito perché erano stanchi e comunque hanno deciso che non usciranno. Dicono forse che usciranno per quanto riguarda San Valentino, ma che comunque non lo sa, vedranno insomma. ci tiene a precisare che lui comunque l'avrebbe voluta portare fuori, però insomma a lei non andava e quindi poi hanno deciso di rimanere a casa. E che però Davide praticamente la sta cucinando lui per farla festeggiare, per farla riposare. Ecco, e sta facendo un ragù, si cambia l'inquadratura e si vede in cucina questo Davide tutto, ha i capelli insomma che sparano da tutte le parti insomma, perché insomma sono puliti, si è dovuto fare la doccia per andare al tribunale, quindi comprendiamo assolutissimamente. sta facendo il ragù praticamente e lei gli dice che è sexy quando cucina. Da lì capiamo che evidentemente ancora non si è svegliata tanto, Chiara. Comunque lui davvero chef quale è, non le dà assolutamente retta, non le risponde, non la guarda nemmeno e pensa soltanto a cucinare. Cambia di nuovo l'inquadratura, mi sta girando un po' la testa, e andiamo nella sala da pranzo dove il marito ha apparecchiato e gli ha fatto una sorpresa, perché ha apparecchiato con una tovaglia rossa a cuoricini e ci sono i piatti natalizi, ci sono anche i bicchieri e a lei questo fa molto piacere perché voleva rivivere anche il Natale, quindi insomma le piace il tutto e dice che non poteva aspettarsi di meglio che al ristorante questa atmosfera comunque non ci sarebbe stata. Lì ritroviamo insomma che stanno mangiando al lume di candela con l'albero di Natale acceso, si danno il buon anniversario, amore, buon anniversario, buon anniversario a te e quant'altro, lei allunga la mano per prendere quella di Davide e Davide a un certo punto guarda e dice che è, cioè proprio, e dopo il primo momento di smarrimento capisce che la deve prendere la mano di Chiara e la deve stringere, insomma, non c'era evidentemente un po' con la testa. Comunque si dicono ancora una volta che si risposerebbero, ti amo, ti amo più io, mi ami più tu, chi si ama di più, non si sa, insomma. Dopodiché ancora cambio di inquadratura su di lei che dice che è molto commossa perché insomma a lei non importa delle critiche che le si fanno, a lei importa di vivere un momento felice e rilassante con suo marito e noi insomma siamo contenti di questa cosa che lei ha potuto vivere questo momento. Si ritrovano a tavola, fanno vedere la lasagna che esteticamente non è uscita tanto tanto bene perché sembra più un pasticcio, almeno quella di Davide, però dicono che è buona dopo l'assaggio anche se pare che sa un po' troppo di alloro perché Davide ci ha messo ben dieci foglie di alloro nel ragù. Però insomma Luciano non l'ha sentita per niente, questo alloro non l'ha percepito minimamente, Chiara forse un po' sì, però alla fine quel che conta è che la lasagna è stata fatta. Dal canto suo Chiara ha fatto un tortino, insomma ovviamente hanno mangiato, hanno mangiato a quanto pare anche bene e si passa ai dolcini. Alla fine hanno optato appunto per i bignè per i mignon, ce ne sono 16, sono diversi, ci sono bignè al cioccolato, bignè alla crema, la panna e poi ci sono dei cannoli insomma. A me quello che fa ridere è che poi lei ci tiene a precisare che questi bignè, praticamente questo vassoio è costato tanto, che costa tanto. Va bene, cioè una volta uno sforzo si può fare. A me ecco questo che lei non capisce, a me quello che fa sorridere è che Chiara non capisce che fino ad adesso era andata pure bene fino adesso, no? Perché lei comunque nessuno le contesta il fatto che a lei piaccia stare a casa invece di andare fuori. Sono fatti i tuoi, sei tu che alle volte sembra che vuoi fare il di più per far vedere all'utenza. Per esempio, questo pacco di pasticcini è costato tanto, ma spero meno della Playstation, ecco spero meno della Playstation e comunque sottolineare il fatto che è costato tanto, io non capisco il motivo di questa cosa. Comunque, la ritroviamo in camera da letto e il giorno dopo, il giorno dopo insomma che hanno festeggiato, quindi il 26, e ci dice che a lei non importa, ribadisce che lei ha passato un bellissimo anniversario, che comunque non capisce la gente che si intromette negli affari suoi, che deve parlare degli affari suoi anche per quanto riguarda l'udienza, e ancora una volta vogliamo dirle personalmente, almeno voglio dirle questa cosa. Chiara, se tu metti tutto sul tubo, ci sono persone che ti guardano, tu fai tu, sei tu quella che fa impicciare gli altri degli affari tuoi, e dopo è ovvio che le persone quando vengono a sapere determinate cose, vogliono anche sapere come vanno a finire. Non c'è nulla di male, ribadisco il concetto, sei tu la prima che schiaffa la sua vita e la fa vedere a tutti quanti, perché altrimenti la gente non saprebbe dell'udienza, non saprebbe dei pasticcini, non saprebbe come è passato il tuo anniversario, non saprebbe neppure che il 25 è stato il tuo anniversario, se non lo dicessi tu. Quindi una volta per tutte, fattene una ragione, quella che si fa stalking sei tu, sei tu stessa, ecco. Comunque ragazzi, questo era tutto, come al solito se vi ho intrattenuto almeno un pochino lasciatemi un like, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, e comunque lasciatemi un commento. Ciao a tutti, alla prossima!